Un pitbull lasciato libero dal proprietario intimonisce il residente di via Mussomeli. Cittadini disperati residenti in via Mussomeli da diversi mesi hanno segnalato alle autorità preposte la presenza di un cano di razza pitbull che è giroso per la zona senza i dovuti accorgimenti di tutela, senza la museruola, un collare con relativo microchip, ma la sensazione è che questo cano lasciato libero dal proprietario che abita in zona in cui to e paura tra gli abitanti e i bambini e sono privi della loro libertà di farsi una passeggiata con i loro genitori. Il pitbull è sempre in giro e senza alcun controllo di colore grigio, chiediamo femmina, non sembra assolutamente aggressivo ma crea grosse situazioni di disagio, ossia per la paura di venerlo in giro o privo di guinzaglio e senza nessun proprietario presente a tutte le ore del giorno e della notte, soprattutto per la presenza dei bambini e di persone che si spaventano come la postina. Lo stesso cano di tutte le serie distrugge i sacchetti della spazzatura, posti fuori anche scotendo i cestini per aprire il contenuto, lasciando residui di ciò che apre davanti all'abitazione che poi non vengono neppure raccolte da chi effettua il servizio di raccolto, lasciandoli marcire. Gli operatori ecologici come mai non puliscono i marciapiedi? Infatti spesso siamo costretti a procurarci scopo, paletta e santa pazienza. I cittadini chiedono di voler inviare un controllo per prendere le opportune azioni da svolgere per garantire la sicurezza dei residenti. I bambini si spaventano e la ripristino del decoro urbano.